Ciao ragazze, buonasera a tutti, a tutte, a tutti. Mi sentite? Quanto è chiaro? Ok, allora, filo arabo. Perché facciamo il filo arabo? Perché dovremmo proporre il filo arabo a differenza della pinzetta o della cosiddetta ceretta? Allora, innanzitutto bisogna dire che abolite la ceretta alle sopracciglia perché è una cosa che non si fa, un'avere estetista non fa, perché crolla la palpebra, come sappiamo tutte, e anche perché andando a lavorare sulla pelle, quindi una zona così delicata come quella delle sopracciglia, sappiamo che la pelle è in quella zona più sottile, quindi andando a fare uno strappo possiamo andare a ledere appunto la pelle, quindi manteniamo lo strato corneo illeso, diciamo così, col filo arabo. Un altro metodo, sappiamo che è la pinzetta, la differenza è che con la pinzetta riesco a togliere solo i peli che vedo, quindi solo quelli che riesco ad individuare, quindi lavorano gli occhi più che altro. Col filo arabo invece, ovunque io passi il filo, il filo tira via tutto e tira via tutto alla radice, quindi anche quei peli piccoli, quella peluria sottile che poi diventerà pelo, andranno via, motivo per cui l'epilazione durerà più a lungo nel tempo. Quindi se io ho una cliente che viene una volta ogni due settimane per fare le sopracciglia con la pinzetta, se alla stessa cliente inizia a fare il filo arabo, arriverà due settimane dopo, poi più lo faccio e più si allunga il tempo di ricrescita, quindi posso arrivare anche a farlo una volta al mese. Questo succede appunto perché togliamo tutta la peluria, anche i peli che non riusciamo a togliere con la pinzetta. Quindi vi faccio vedere dove mi devo mettere. Spieghiamo già perché proprio abbiamo oggi per iniziare, perché avremo due modelli, il primo è un uomo, perché questo è un trattamento che è adatto anche per gli uomini, perché possiamo fare varie zone. È un trattamento adatto per gli uomini perché possiamo fare, vabbè, per quanto riguarda l'uomo le sopracciglia, ricordiamo che il filo arabo l'ho fatto solo sul viso, non possiamo farlo sul corpo, quindi per quanto riguarda l'uomo le sopracciglia donne tutto il resto del viso, quindi anche la peluria che abbiamo, zona basette, zona mento, possiamo fare il baffetto, possiamo fare un po' tutto il viso. Allargo il filo larghezza, diciamo, spalle, un po' più largo delle nostre spalle. È un filo particolare, Lisa? È un filo in poliestere, è un filo semplicissimo in poliestere. L'importante è che non si spilucchi, quindi non prendete fili in cotone, deve essere un filo duro e resistente. Non so se si vede, perché è bianco. Quindi, bello, resistente. Può capitare che durante l'esecuzione si spezzi il filo, eventualmente se ne fa un altro. Allora, io lo leggo al collo, ci sono diverse metodologie, e l'avrete visto fare sicuramente con le dita, in questo modo. L'avrete visto fare attaccandolo a un dente, per esempio gli arabi fanno così. Il metodo tradizionale è legarlo al collo. Quindi io faccio un nodo senza struzzarmi, quindi lasciate lo spazio. Facciamo il nodino e poi metto la mia mano perpendicolare al filo. Giro e lo blocco in questa posizione. Scusate un attimino che alcuni hanno il microfono aperto che non si deve tenere aperto. Giro, faccio 5-6 giri. E la parte che mi andrà a lavorare è questa. Qui, in questa zona, è come se io avessi una pinzetta. Che dove passa, tira via tutto. Ok? E cominciamo. Aspetta che questo stiamo avvenendo. È un filo che si trova tranquillamente da tutti. In merceria? Sì, in merceria. Questa è la colla della merceria. Lo possono trovare. Scusate che oggi ci muoviamo con la videocamera, ma dobbiamo essere un attimo mobili in base a dove si mette Lisa. Allora, ricordiamoci sempre di tirare bene la pelle, quindi tenerla in trazione. Prima facciamo un bel po' di pratica col filo, prima di iniziare. E poi ci aiutiamo con l'anulare, o con il dito che viene meglio, in genere l'anulare. Tiriamo su la pelle, posizioniamo e andiamo indietro col collo. Ora, chiaramente ragazze, noi facendo lo zoom sul viso del ragazzo, non si vede come Lisa tira il collo. Io faccio un provo un po' adesso. Quindi facciamo una ripresa sia della nostra docente che del lavoro che sta facendo e poi andremo a zoomare in particolare dove stanno andando a levare il pelo. Così vedete il movimento che fa Lisa. Ok, ci posizioniamo, tiriamo la pelle e andiamo indietro col collo. Guardate il movimento di Lisa, poi faremo lo zoom. Vedete quindi che lei... Tu per tirare, allontani il collo praticamente. Sì, quindi si tira così. Dovete fare... Cioè, a parte posizionarlo sulla zona, dovete solo andare indietro, poi stacca da solo. Perfetto. Il filo deve stare molto aderente alla pelle. Quindi adesso direi di fare lo zoom per vedere in particolare. Ragazze, avete visto il movimento che lei fa? Quindi sapete come si sta muovendo, adesso andiamo a vedere come lavora. Ecco qua. Ecco. Se tirate troppo col collo vi si stacca il filo. Bene, potrebbe succedere quindi. Succede sempre. È successo. Succede tre o quattro volte durante l'esecuzione. E' pur sempre un filo, quindi si può cambiare. I tossicati. Soprattutto quando i peli sono duri, quando i peli sono duri vi si stacca spesso. Bene, quindi lei sta ripetendo nuovamente il meccanismo. Ok, allora io inizio dalla parte centrale per quanto riguarda le sopracciglia. Quando vogliamo andare a prendere un pelo, ce lo andiamo ad incastrare qui all'interno. Come facciamo? Andiamo trasversali. Lo incastriamo qui dentro e tiro. Anche se voglio staccare un solo pelo. E infatti si è visto il particolare proprio che hai preso quel pelo. Ora voglio staccare questo. Aspetta perché veramente... Lo faccio rivedere? Sì, sì. Allora, mi posiziono, entro e stacco via. Avete visto, ragazze, l'effetto pinzetta poi come avviene? Lei proprio incastra il pelo. Ok, mi posiziono. Mi posiziono. Guardate come saltano via tutti questi peli. E mi restano incastrati qua dentro. Esatto. Ok, a questo punto ci facciamo tutta una linea dritta nell'arcata superiore. Sappiamo che le ciglia 1 non vanno modificate, quindi togliamo solo l'eccesso. il filo riesce a dare una linea veramente dritta. Quindi assento togliamo un po' di peluria qua sopra. Perché l'arcata superiore la lasciamo... Cioè, assento togliamo la peluria che c'è sopra. Non vi avvicinate perché capita spesso di vedere questa zona priva di peli. Quindi le sopracciglia non sono più incorniciate. O si possono fare danni anche sotto. Infatti, se notate, molte delle ragazze che hanno problemi di mancanza di sopracciglia è proprio perché si toglie più del dovuto. non si segue bene la linea e si toglie più del dovuto. Posizioniamo il filo, per esempio in questa posizione, tutto ciò che troviamo fuori, qui, ce lo stacchiamo. Sempre con questa metodologia. Entriamo e stacchiamo. Willy, stai soffrendo? No. Resiste. Quindi fai il bravo modello, soffri in silenzio. Ok. Io sopra andrò più in niente. Elisa, ma per fare un po' di pratica, diciamo, c'è un modo per applicarsi da qualche parte o subito su cavia? Su cavia? Sul braccio. Ah, sul braccio. Per capire il meccanismo di tirare i peli, magari. Sì. Willy, mi presti un braccio? Oddio. Sul serio? Mi potete prestare un braccio da qualcuno? Aspetta che vi facciamo vedere questo momento. Perché qua sono più grossi per i più neri, quindi magari vedete meglio. Ecco. Per esempio, io voglio prendere questo pelo. Non so se la telecamera adesso riesce. Ok, questo pelo. Aspetta. Aspetta. Mi sposto proprio un po' di qua. E dipende come dimentico. Vediamo. Aspetta Elisa. Ok, premiamo ora. Vi vogliamo fare vedere questa inquadratura. Allora, voglio prendere questi due peli così. Ok. Quindi entro dentro i peli, appoggio e stacco uno e due. Si attorcigliano? Sì. Cioè, riuscite ad essere veramente precisi. Avete visto questo aumento proprio di come si attorciglia? Guardate, perfetto. Stacchiamo tutti i peli del braccio. Allora, entro, mi allontano col collo e si tira via. Vedete? Abbiamo fatto un buchino, questa così. Avete visto il particolare? Ok. Per capire come tirare effettivamente il pelo. Quindi ho iniziato dal centro e poi ho proseguito sull'arcata superiore. Ci spostiamo dall'altra parte. Per prendere la misura il filo mi aiuta come se fosse una linea. Quindi io lo poggio e vedo cosa devo andare a togliere. Quindi traccio una linea dritta tutto quello che c'è dopo il filo, quindi in questa zona. Posso anche tracciarmi una linea indicativa così. E stacco via tutto, lo metto da questa parte. Quindi poggio, tiro nel frattempo la pelle, mi poggio e mi allontano. Se non c'è un po' così. Se non c'è un po' così. Elisa ovviamente questo trattamento non lo puoi fare su te stessa. Volendo sì, ma non con questa metodologia. Questo volevo dire perché se tu ti vuole fare le sopracciglia col fatto che ti muovi il collo. No, le sopracciglia non si possono fare perché non riuscite a tirare la pelle. Quindi ve la pizzicate e vi fate delle micro lesioni, dei puntini, delle crosticine. Sopracciglia no, il baffetto lo potete fare da sole. Dopo vi faccio vedere come. Ah ok, quindi dopo ve lo facciamo vedere su voi stesse che potete fare il baffetto, ma chiaramente con una tecnica diversa perché muovendo il collo in questo caso non lo potreste fare. Ok. Vediamo se sono gritte. Ci miglioriamo anche il punto di altezza, quindi 1 e 2. Qui posso togliere ancora col fusino, ma è peluria. Ma si vede? Sì sì. Ok, adesso ci facciamo aiutare dal cliente. Come? La manina destra sull'occhio destro. E tira adesso il basso. La manina sinistra sopra l'arcata. E tira, deve tirare bene 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 la pelle perché adesso dobbiamo lavorare sull'arcata inferiore. Scendo un pochino la mano, se no non ci passo col filo. Questa metti la poco più giù proprio sul sopracciglio. Ok, tira bene bene. Chiedete di tirare molto bene perché potreste pizzicare la pelle in questa zona. Ovviamente consigli sempre di fare sdraiare il cliente in questo caso. Sì sì sì. E la posizione migliore. Sì sì, vi viene meglio. E togliamo tutta la parte che esce fuori. Aspetta che risolviamo un po'. Sono andando molto lenta per farvi capire, eh. Però in dieci minuti veramente le fate. Basta poggiare e tirare ed è finito. Aspetta perché ci sei tu con la testa un po' davanti. Ci spostiamo noi. Aspetta ragazzi che oggi è una ripresa decisamente mobile per noi. Ok. Ci siamo? Sì sì. Andiamo. Ok, io a questo punto mi toglierei solo questi coltropeli che scendono sotto perché abbiamo detto su un uomo non andiamo a fare sopracciglia sottili. Quindi laddove vediamo il pelo che non ci va bene, sempre la stessa metodologia, andiamo e tiriamo solo quel pelo. Qui in questo caso Elisa per fare diciamo una linea, chiede Caterina, diciamo come ti regoli per la forma, per non fare a caso. Non fai a caso, comunque poi impari a doppio a tracciare una linea. Devi conoscere la forma delle sopracciglia, come fare delle sopracciglia perfette. Diciamo che ognuno ha la propria forma. I parametri sono sempre quelli. Lascia un attimo. Lascia, lascia. Quindi andiamo dalla linea della pinna nasale e deve passare di qua. Quindi tutto quello che c'è oltre va tolto. ci poggiamo sul naso, ora non vi posso fare vedere la zona precisa perché abbiamo tutte le mascherine, e tracciamo una linea dritta. Quindi tutto quello che sta fuori, cioè qui, ce lo tiriamo col mignolo e stacchiamo. ed è uno, e così ci tracciamo il punto iniziale. Il centro, quindi il punto di altezza, ce lo facciamo passare dalla pupilla. Apri gli occhi. Sappiamo che deve passare attraverso la pupilla e qui ci troviamo all'altezza. Ovviamente ci regoliamo sempre in base alla forma naturale delle sopracciglia, non c'è la stessa forma per tutti. E la porzione finale, quindi dove devono andare a finire, prendiamo come punto di riferimento la parte finale dell'occhio, quindi sempre dall'esterno, dal naso. Passiamo dalla fine dell'occhio e sappiamo che devono finire in questa zona. Se finiscono prima, sono più corte, se finiscono dopo, rarissimo, ma può succedere se sono più lunghe, tagliamo la parte finale. Ovviamente non prendete questi parametri come l'Ave Maria, perché se la forma delle sopracciglia è quella ed è abbastanza armoniosa sul viso, non c'è bisogno di andare ad alterare, perché i parametri sono per forza questi. perché io posso avere un'altezza magari un po' più spostata, ma non mi va di andare a togliere questi due paletti. Per non alterare sempre troppo la forma, lasciamole sempre quanto più naturali possibile. Diciamo, sono delle linee guida che possono aiutare, ma sempre bisogna tenere fede di quello che è la forma dell'esercizio. Ok, ce lo guardiamo e vediamo se ci sembrano pulite. Io non andrei a togliere nient'altro. Diciamo, non andiamo a fare le ali di gabbiana. Assolutamente no, forse questo pello qua mi risulta fuori linea. queste le accorceremo, ora le accorciamo e passiamo dall'altro lato. Stesso lavoro di qua, tieni con una mano in su e poi l'altra sull'occhio. Ok, più verso la fine, questa mano, un po', ok, tira bene bene bene. Ok. Ok, grazie a voi. Ok. 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 Ok, ci togliamo questi che sono qua sotto, quindi dobbiamo tendere molto bene la pelle ma molto bene anche il filo, ci possiamo aiutare anche con le nostre dita. Aspetta che vediamo un po' la telecamera, ci siamo? Ok, adesso si. E qui ce n'è un altro fuori, poi comunque più lo fate più vi abituate l'occhio a lavorare. Eviti di utilizzare i guanti quando fai questo trattamento perché ti viene male? Mi viene male. Mi viene male con i guanti. Mentre Valentina chiede, è una tecnica che sconsigli per delle filmature? No, è una tecnica che consiglio su tutti i tipi di pelle, su tutti. Non ci sono problemi. Mentre se qualcuno ha le unghie un po' più lunghe, secondo te… Le accorciamo? Eh. Sicuramente se siano le unghie troppo lunghe non si riesce più, vedete? Lei si appoggia proprio con le dita. Ok, vabbè, a parte che se sono estetiste e faccio sopracciglia, le unghiette andrebbero poste a prescindere. l'igiene nostra e l'igiene del cliente, della cliente. Ok, ora ce le guardiamo frontali, prendiamo nuovamente le misure e vediamo se abbiamo fatto bene, se c'è qualcosa che esce fuori. Prendiamo il filo in questo modo e vediamo se finisce uguale sia da un lato che dall'altro. e ci siamo. Ora andiamo ad accorciare i peli più lunghi. Io sono andata molto lentamente, quindi è veramente veloce. Vediamo se trovi un dischetto di cotone. e accorciamo le sopracciglia. Le pettiniamo prima verso il basso. Tagliamo solo le punte, quindi quello che ci esce fuori. Andiamo ad un lato e poi dall'altro. Vedete già che differenza tra una sopracciglia e l'altra? Quindi le sopracciglia le accorciamo solo quando sono veramente lunghe, come queste. Quindi quando non c'è motivo non si tagliano, sennò crescono ispide e dure. Ora che ce le abbiamo più corte, vediamo anche se ci sono altri peli da togliere. tipo questi due po' sotto. Aspetta, li apriamo. Ok, asciugiamo la lacrima del cliente che si è emozionato. e ci togliamo quest'altro pelo. Quindi lo uso proprio come se fosse una pinzetta. e sempre andiamo da un lato e dall'altro. Clelia Elisa ha detto che le accorciate in questo caso solo perché erano effettivamente lunghe. Riccioline. Esatto, quindi si vedevano che erano in eccesso. Se no non le tagliamo le sopracciglia, non c'è motivo di accorciare. Per fare la prova del 9, per essere di sicura che abbiamo fatto bene, il cliente o la cliente va guardato sempre da seduto frontale. Da seduto? Lo guardiamo anche noi adesso. Ok, come vi sembra? Siamo uguali? Guarda in camera. Perfetto, non abbiamo stravolto. No, non abbiamo stravolto niente, anche perché è un maschietto, quindi mi sono mantenuta molto. Abbiamo dato una regolata. Sì. Che prezzo consigli per questo tratto? Eh, facciamo 15 le sopracciglia, se lavoriamo in un centro estetico. 6 euro può essere considerata la zona del baffetto. Ok, per finire mettiamo un po' di tonico rinfrescante. Ok. Quindi abbiamo messo il tonico. Ok, e passiamo alla modella successiva. Prima di passare alla modella successiva, con lo sfondo, facciamo rivedere il passaggio del filo, come si attacca. Sì, terminiamo. Così nel frattempo si sistema l'altra modella. In questo momento facciamo un attimino questo... ricapitoliamo. Allora. 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 Incolriamo un attimino qui. Si accomoda l'altra modella. Allora. E devi farci far rivedere questo passaggio. Ragazzi, mi raccomando, state attente. Allora. Allora. E poi lo rivedete con la registrazione. Allora, filo. La registrazione. Ma è quasi il tonico dopo il trattamento. Allorghiamo le braccia così. Lo faccio costare attorno al collo e faccio due nodini. Mi assicuro che stia fermo e che non vado a stringere. Quindi, se sento che ancora si allarga, faccio un terzo nodo. Ok? Deve rimanere questo spazio. Dopodiché... Mano. Giro il filo e lo blocco col pollice. Giro la mano, quindi entro la mano dentro il filo. E faccio fare questi giri. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Entro il pollice. Ed esco all'anulare. E ho pollice e indice medio dentro il filo. Questi mi aiutano ad allargarlo. Questo che resta lo tengo in trazione. E la parte centrale è la mia pinza. Quando vado indietro col collo, tira via i peli. Vi dovete esercitare così, praticamente. Tiro e allargo il filo. Tiro e allora allargo. E questo è lo stesso movimento che andrete a fare sulla pelle. Ok? Quindi prima tutta questa pratica. Vi potete allenare anche sulle vostre gambe. Eventualmente, se non avete modelle o zone da trattare. e iniziamo dalle sopracciglie. Faremo tutto il viso. Ecco, in questo caso non solo sopracciglia. Vedremo. Ovviamente dove c'è più peluria si può utilizzare a maggior ragione. Questa tecnica. Sì, sì, è consigliabile. Anziché fare la ceretta che comunque mi strappa la pelle, mi può fare delle lesioni. Quindi, utilizzo il filo arabo. Dischetti di cotone per, diciamo, spolverare. Puliamo la pelle se la cliente è truccata. Iniziamo da quella parte, ok? Ok. Capicino di un po' più a me. Benissimo. Allora, al solito. Iniziamo dal centro. Quindi, mi posiziono e tiro. Con questo riesco a togliere anche i peli incarniti. Per esempio, questi piccolini, se io mi avvicino bene bene alla pelle, vedete come saltano? Diciamo che la domanda che va per la maggiore è fa male, fa più male della pinzetta? Eh, non l'hanno ancora fatta, ma... È lo stesso principio, quindi togliamo comunque il pelo alla radice. Che sia col filo che sia con la pinzetta è la stessa cosa. Magari col filo soffrono meno, perché è più veloce. Quindi molti lo preferiscono. Parlo per esperienza personale. Miriam, abbiamo detto che anzi, se c'è una velura più forte, diciamo che si utilizza maggiore altro. Evitiamo sempre di fare la ceretta sul viso. di mettere comunque quella... la cera calda, quindi per chi ha cuve rose o magari va bene. La cuve rose sono quelle... le venunze, diciamo, un po' spezzate, quelle delle injectasie o del rossore diffuso. Quindi quando abbiamo del rossore andare a mettere la cera calda sul viso non è proprio il massimo. Quindi il filo arabo in questo senso ci aiuta. Tiro col mignolo e mi tiro via tutta questa zona. e non vado oltre perché già la nostra modella ha le sopracciglia sottili, molto sottili. Quindi mi tolgo solo l'eccesso. Ok, vedete anche i pelli che non si vedono? Perché sono magari incarniti o sono sottopelle. Se io vado un attimino come se andassi a scavare, quindi a tirarmeli fuori così, facendo questo movimento, qui posso andarle a staccare. Ok. E passiamo all'arcata. Superiore. Vedete, questo è il caso che dicevo prima. Per ottenere una linea dritta, molto spesso si fa l'errore di andare a togliere tutta la peluria che c'è sopra. Con questo risultato, quindi se noi andiamo a togliere più del dovuto, cosa succede? che abbassiamo lo sguardo. Invece l'arcata dovrebbe essere mantenuta sempre intatta, andate a togliere solo la peluria che si crea sopra. E ce le modelliamo da sotto le sopracciglia. Qui togliamo la peluria che vediamo. Non male? Io questi due peli me li lascerei. Anche se sembrano fuori posto. Sembrano fuori posto, però in questi casi io le direi di non toccarsele e tentare di farle ricrescere. Perché se tolgo questi due mi abbassa ancora di più l'altezza che già non c'è. E' perché la forma è da sistemare, no? Sì. Ora gliele ridisegniamo anche con la matita. Per motivare sia il trattamento che deve essere sicuramente un trattamento diverso dalla pinzetta. Quindi differente. Facciamo uscire la cliente, se possibile, anche con le sopracciglia truccate. Quindi totalmente sistemate. Ma soprattutto se viene una cliente che non ha una forma di sopracciglia perfetta. Le si consiglia di un attimino intraprendere un percorso per sistemarle, ecco, man mano, di forma. Quindi le si spiega che magari è meglio infoltirle. Quindi la si segue, ecco, no? Anche questo è il convito. Sì. Diciamo che in questi casi è meglio toccare, meglio non toccare la forma, ma limitarci solo proprio alla zona qui circoscritta senza andare troppo, senza addentrarci troppo. Così le facciamo ricrescere. Si può mettere anche l'olio di ricina nel tentativo di farle ricrescere. Se ovviamente si tolgono da anni, quindi questa situazione se la porta dietro, mettiamo il caso da dieci anni, è un po' difficile che ricrescano. Se è un lavoro fatto male, ma fatto da poco, siamo ancora in tempo. Ecco, vedete anche questa peluria, ora ce l'andiamo a togliere. Questa, per esempio, la potete togliere. Se passo la ceretta in questa zona, la pelle è molto sottile, quindi rischio di irritarla. Invece il filo non tocca minimamente la pelle, va ad agire solo sul pelo. Quindi togli solo il pelo, senza ledere la pelle. Ok, tirami qui, una mano sopra e l'altra mi tiri giù. Ma veri con due dita, perché il mignolino è troppo poco. Aspetta. Ok, tieni bene bene tirato. E ci togliamo questi. Io comunque col mignolo continuo a tirare. La pelle più la tiriamo, più siamo sicure di non fare microlesiamo. Se voglio togliere i peli incarniti, tipo questo qui, vedete questo piccolo piccolo, vado un po' a fare questo movimento, quindi a tirarmelo fuori intanto, e poi cerco di incastrarlo. e per fare questo ho bisogno di un filo veramente sottile, quindi non potete lavorare con qualsiasi tipo di filo. E' uscito. L'abbiamo visto proprio. Ha partorito. Ha partorito. Ti stavamo seguendo proprio con ansia. Ha partorito. Siamo incastrato un capello, scusami. Abbiamo detto che il filo di cotone non va bene perché non si deve sfilacciare. L'olio di ricino per far ricrescere le sopracciglia, ragazze. e anche le ciglia si può mettere. E anche le ciglia si può mettere. prima cosa state tirando. Certo, leva anche proprio i micropeli. Sì sì, per questo durano di più. Ho fatto il confronto quando lavoravo con l'estetica, a vedere le clienti che arrivavano con sopracciglia fatte da pinzette e clienti che arrivavano con sopracciglia fatte da filo arabo. Quelle con filo arabo venivano ogni mese, una volta al mese. Con la pinzetta, chi magari soffre di peli incarniti, ogni settimana erano lì a farli togliere. Il filo elimina anche i peli incarniti con l'andare del tempo. Certo, se c'è la predisposizione qualcuno uscirà sempre. Però si può avviare un po' il problema. Ok. E abbiamo dato una linea. Perfetto. Io a questo punto questi due po' sopra me li toglierei, perché non hanno un altro senso. Sì, purtroppo ci sembrano fuori posto in realtà. Sì, li farei allungare ma non penso da quanto tempo ce l'ha questa situazione. Sempre sono stata di là, non li tocco. No, ti vedi, sopracciglia così sottili. Sempre così. Sempre così. Quindi è inutile che tentiamo di fare ricrescere questa zona, sembreranno fuori posto. Li togliamo e basta. Al massimo possono ricrescere questi qui. Cioè questi qui io li lascio, questi quattro. E se non li tocchiamo magari col tempo andiamo a farli ricrescere. e facciamo l'altro lato. Guardate la differenza tra una sopracciglia e l'altra. Qui non ho nemmeno i puntini del pello incarnito. Qui non c'è. E qui abbiamo pelli incarniti. Sotto pelle. Ok, tendiamo a far uscire anche questi. Stesso lavoro che abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi iniziamo. Vediamo che ci spostiamo un po' dietro così prendiamo meglio. Perché adesso tu hai una posizione diversa delle mani. Perfetto. Allora. Allora. Sempre iniziamo dall'arcata superiore. Poi potete iniziare anche dall'arcata inferiore. A me viene meglio così. Ormai ho preso questa abitudine e vado sempre. Inizio sempre così. Prima pulisco l'eccesso e poi pulisco la forma. Benissimo. Trazione. Sopra. E sull'occhio. Perfetto. E andiamo sempre dall'esterno. Quindi sempre da fuori. E pian piano andiamo ad addentrarci. Come fate l'epilazione con la pinzetta fatela anche col filo. Quindi iniziamo sempre da fuori verso l'interno. Così ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo. Perché se facessimo l'inverso quindi dall'interno all'esterno non riusciamo a seguire poi più la forma. La cosa diversa dalla pinzetta è che in un movimento ne tiri 10. Esatto. Quindi praticamente in 3 secondi. Vedete ora suonando più veloce perché già avete capito il metodo. e me li tiro via tutti in una volta. Cosa importantissima è tirare molto bene la pelle. Questi due qua sotto. Perfetto. Qui forse ce n'è uno che non mi piace. Ok. Iniziamo a fare il viso. Hai fondotinta sul viso? Ok. Bravissima. Molto brava. Tutte le clienti come te. perché se vengono truccate con i fondotinta e tutto dovete rimuovere ovviamente prima il trucco e poi proseguire con l'epilazione. Allora molte persone hanno questo problemino qui vicino l'occhio. Adesso la mascherina è solo dall'elastico sempre tenendola in viso però così almeno ti agevoli. Ok. Ora mentre tieni la mascherina ci voleva una terza mano. Mi tiri qui perché ricordiamo la pelle sempre in trazione. Togliamo tutta questa peluria che abbiamo qui intorno. Quindi vi stiamo facendo vedere qual è l'utilità del filo arabo sul viso. Non solo nelle sopracciglia. Attenzione a non tirare via le ciglia. Perchè qui diversamente sconsigliata ovviamente la ceretta si dovrebbe andare di luce pulsata. Sì anche se fare un laser vicino all'occhio è un po' difficile. Non tutti lo fanno il laser in questa zona. Quindi almeno con il filo arabo si riesce. Vedete già com'è pulita. Non so se si riesce a vedere la differenza da qui a qui. Certo si è la differenza. Sì sì. Un male. Un po' chi? Certo il tiro. Però dico è tranquilla. Non la stiamo sentendo urlata. Se la ceretta è bella si vuole apparire. Si deve soffrire. Lo diciamo sempre. Adesso pure la ceretta fa male. Quindi non è che... Sì ma molto meglio della pinzetta. Certo. A parte che... Poi uno a uno la pinzetta lì con la peluria così sarebbe anche possibile da levare. Allora se andate a fare su questa zona la ceretta. A parte che molti peli essendo molto sottili si spezzano. Questi invece sono tolti tutti, tutti dalla radice. Vuol dire che lei le ricresceranno tra un mese. Poi ci farà sapere. Ok. Adesso questa manina qui. Tira più in giù. Una mascherina così. E tieni in trazione. Allora. Ora qui abbiamo questi peli un po' più lunghetti. Quindi questi li possiamo accorciare. Se no si forma la matassa nel filo e il filo si spezza. Intanto proseguiamo sempre da quelli corti sulla guancia. Ok. Ora siccome i peli vanno verso il basso io ci devo andare per così. Quindi metto dall'altra parte. Avvicinati un po' più in qua. Ok. Togliamo uno. Questa? Si. Tiro io. Vedete come saltano? Guardate qua dentro. Aspetta e facciamo vedere il filo. Ecco. Guardate cosa si è creato. Si formò. Scarichiamo. Quindi segui chiaramente il verso del pelo per tirarlo. Si. Contro pelo. Esatto. Io comunque sto tirando la pelle. Eh? Col dito. In questo momento mi stai odiando però poi mi amerai. Fidati che si vede la differenza. Sarebbe carino fare anche una maschera decongestionante dopo. Quando facciamo tutta l'epilazione al viso. O un impacco col tonico, cinque minuti, un gel dentivo. Sì. Sì. Infrescarla un po'. Sì. Questa. Inquadriamo anche, visto che hanno capito il movimento diciamo come il pello viene stirpato. Inquadriamo il visato intero così per fare vedere il movimento che lei fa col collo. le mani sono ferme, il collo si muove. Il movimento è sempre questo, ragazze, che vi abbiamo fatto vedere all'inizio, che crea quella sorta di mega pinzetta. Questo è il donetolo che si forma. Guardate, facciamo lo zoom un attimino, che arriviamo Lisa. Aspetta un attimo, facciamo lo zoom. Arriva, arriva, arriva. Ok, vedete? Ecco, guardate i pelli che si sono ragglippati. Ci vediamo con un disperto di cotone. Ok, la matassa che ci rimane qui, la lasciamo qui e cambiamo zona, fino a quando il filo non si spezza. Certo, dinevi, siccome ne tiri parecchi contemporaneamente, lo strappo, come sempre. Eh sì, un po' sì, poi siamo sul viso, che è una zona delisata. Inutile dire, indolore, come dicono molte persone. Indolore, no. Però ne vale la pena, perché per chi ha problemi di peluria l'unica soluzione è fatto il laser? Sì, certo, esatto. Ok, andiamo sempre a poco a poco per evitare che il filo si spezzi. Ragazze, per il meccanismo di come si incastra il filo, come lo sistema il collo, l'abbiamo fatta vedere già tre volte e lo rivedete nella registrazione. Dopo vi fa vedere l'altra tecnica per non attaccarlo al collo per chi lo volesse fare su se stessa. Sì. Intanto concludiamo prima questo trattamento. Anche perché il primo e dopo, anche già tra una guancia e l'altra che vedrete, è veramente evidente. Una guancia sì, una guancia no. Ok, a questo punto tra un po' non mi scorre più e lo devo cambiare. Certo, perché man mano fai i nodini di peluria. Sì, man mano fai i nodini di peluria. Vedete già lo stacco? Sì. Dopo l'epilazione, ragazze, ha detto che si può fare una maschera rinfrescante, un tonico, insomma un attimino anche per attenuare il rossone. Faccio rivedere come lo leggo velocemente, vedo che si è spezzato. Quindi larghezza braccia, largo le braccia. Aspetta che ti inquadriamo. Ok. Filo larghezza braccia più o meno così, passo dietro il collo, faccio due o tre nodi. Tu respira un attimo nel frattempo. È caldo vero? Eh sì. Sto prendendo il fuoco, prendendo il poverino. Troppo pello. E allora, nella zona in cui i peli sono più lunghi, io li vado un attimino per scorciare, sennò chi lo non riesce. Quindi prima li accorcio e poi me li tiro via. Anche perché dovrebbero così anche leggermente fare loro male? Eh sì, perché si attorciano meno. Anche perché a parte che vi forma la matassa e poi vi si spezza. Quindi in ogni caso devono essere un pochino accorciati. Per questo trattamento appunto in viso, quindi non solo sopracciglia, che costa consiglio? Guarda, allora se lo fai completo, tipo così dalla guancia sopracciglia, 35 euro ci puoi andare tranquilla. Quindi perché c'è un bel lavoro? C'è un bel lavoro da fare e comunque la cliente in base al problema che ha, torna. Perché chi ha la peluria in genere mi chiede sempre come eliminare questa peluria, se può fare il laser. Ogni volta che provano il filo, poi tornano. Ancora meglio del laser perché il laser non toglie peli molto chiare, la peluria molto chiara. I peli biondi sì, ma devono avere una certa consistenza. Diciamo che sul viso sono più sottili, quindi il laser non sempre funziona. E il filo è l'unica alternativa. Ok, tira, tira. Aspetta che non giriamo, nel frattempo così facciamo vedere. Quindi accorciarlo laddove è necessario può agevolare il trattamento e anche un po' il dolore. Ma 35 sono anche pochi eh. 35 per chi lavora diciamo in appartamento, ma al centro estetico penso anche 40-45 euro in epilazione viso. Un filo arabo perché tre quarti d'ora di tempo vi partono subito, cioè sicuro. Quindi per fare tutto il viso non meno di tre quarti d'ora chiaramente. Sì, se avete peluria in tutto il viso e dovete toglierlo in tutto il viso, tre quarti d'ora. Ok, passiamo al perfetto, abbiamo fatto tutta la guancia, sembra che l'abbiamo presa sberga poverina. Però sarei soddisfatta, te lo promettiamo. Guarda, toccati. Ho sensibilità. Ok, facciamo il boffetto, togli la mascherina. Allora, mi devi stirare la pelle senza mani, senza mani, stira così. Bravo. Scusate un attimino, la dobbiamo levare la mascherina, sennò non ve lo possiamo fare. Aspetta un attimo che cambiamo così. Aspetta, vediamo. Vediamo ora. Ok, ci vediamo? Stira. Quindi facciamo stirare la pelle della cliente in questo modo, o così o con la lingua dall'interno proprio a spingere la pelle. Però così già, ok. O così. Lei mi capta subito. Bene. Mi piace. Si presta, si presta. Si presta, perché non tutti capiscono come si devono andare a collocare le labbra. Ok. Vedete, già abbiamo fatto un lato, tutto tolto. Che questo penso che in confronto al viso non è niente. Non entendi niente. Crizia, il passaggio delle mani, lei le posiziona semplicemente e tira con il collo. Quindi le mani non si muovono, sembra che si muove qualcosa. Il filo che vedete che si muove è perché lei lo tira col collo. Con le mani faccio solo questo movimento appena arrivo alle dita, tiro per allargarlo. Esatto. E' che sono veloce quindi magari vi sembra... Ora prima di iniziare l'altra parte della concia facciamo vedere la differenza. Certo. Maria Antonia al filo si può comprare in qualsiasi mercedia. L'importante non sia di botone, ma di poliestere. Poliestere. Ma di poliestere. Stiamo nel centro, ok. Questa è la zona che fa un po' più male, ma anche con la ceretta fa male. Sì, infatti. Ok. Facciamo solito. Simona, solitamente come ha detto Elisa non meno di tre quarti d'ora per tutto il viso, chiaramente. se siete veloci sì, tre quarti d'ora. Se la ridono. Allora, io non vado a toccare la veluria che non mi sembra né lunga né... Questa non la ce la vediamo anche qui. No. Ci basta fare le scelte. Ok, vi faccio vedere un lato e l'altro. Come costa abbiamo detto non meno di 35 euro a casa. Sì. Sì. Chiaramente in un centro estetico. Si vede? Sì. Si vede bene la differenza. Allora, guardate dove Elisa già ha fatto il trattamento. Quindi guardate questa parte. Ora vi facciamo vedere dove ancora non è stato fatto. Guardate la differenza. La guancia di lei è totalmente pulita. Guardate. Ha lasciato solo la basetta chiaramente. Sì, che se vogliamo la possiamo stringere un po' di più. Io la stringerei effettivamente. Scusami modella, sono stata io in città a farla nuovamente tornare. No, già l'avevo notata che stavo andando veloce per farvi vedere dopo anche le seguimenti. In questa fase si formano proprio i nodini. Sì. Che sono lunghi. Ok, girati dall'altra parte. E facciamo l'altra parte. Monica chiede questa tecnica adatta anche per chi ha problemi di follicolite nella zona del baffetto? Assolutamente sì. Meglio sempre il filo arabo. Aiutami. Da qualsiasi parte. Come ti viene meglio? Inizio da qui. Mentre Elisa, questo trattante tu stai facendo alla ragazza per la pelluria della barba maschile lo consigli? Non penso che un uomo possa resistere innanzitutto. Esatto. Per la pelluria della barba maschile più che altro questa zona. Questa zona che gli uomini spesso tolgono, questa zona sì. La zona della barba no perché il pelo ragazzi lì è più duro. Non è il caso. No. Sui peli duri no. Il filo arabo si fa sulla pelluria. Ok. Guardate, guardate come vengono via i peli e si formano… Ecco. Si è rotto il filo nel frattempo. Ti sto rigasando. Povera modella, ma quando ti alzerai credimi che sarai felice, ci ringrazierai alla fine di tanto dolore. Oh non basta. Dopo si può essere Alessio. Certo, sicuramente. Io ti crederò un pochino… Sicuro. Ma la ragazza non nova il nostro silenzio. Ci vediamo il prossimo workshop del 2025. Che ci vuole? Scusi. Noi? Anche Claudio. L'avevi mai fatto il filo sul viso? No. Lo farai? Allora, secondo me quando vedrai il risultato lo vorrà fare. Ora anche a me. In onestesia locale si può fare. In onestesia locale sembra che la stiamo prendendo a manate se rossa. Ma se è buono per Gabriele? Mi mettevo qua e sta zitto Nora. Peccato non c'è Gabriele sennò facevamo soffrire un po' lui. Tu ora stai pensando chi me l'ha fatto fare. Ma dopo… Dopo veramente. Dopo. Anche tra una settimana che vedi che ancora non ti crescono. Sì. Sarai contenta. Magari non si arriva a questo punto di crescita. No, certo ragazze. Ecco. Una cosa importante. Una cosa importante. Non fate tornare alla cliente dopo due mesi. Cioè sono presi così adesso perché lei non li ha mai fatti. Però non deve arrivare a questo livello. Perché uno viene difficile a voi perché vi si formano tutte queste matasse e perdete ancora più tempo. Vi si spezza il filo. Lei soffre di più perché ci state di più. Si deve riprendere una volta all'inizio o una volta ogni tre settimane. Sempre in base alla velocità della ricrescita. Dopodiché la potete fare anche una volta al mese. Perché cresceranno sempre di meno e sempre più con lentezza. Come se facesse un laser. Perché i peli si inneboliscono. Andiamo un attimino più veloci ragazzi in modo tale che finisce questa zona. Tanto ormai non avete capito. Così poi vi far vedere come si fa l'altra tecnica per attaccare il filo per poter lavorare su se stessa. Sì, ditemi voi casomai quando si soppare. Ora le ragazze hanno capito come funziona. Noi non ti fermiamo più così tu vai veloce. Ok. E abbiamo il tempo. Prima di conterare. Tira qui verso il basso. Questo soffre di più. Ok. Ok. Spostiamoci un po' più. Sì, perché a Lisa non si fa male. Respira. Aspira un attimo e bollente Infatti il segreto è non far arrivare più la cliente con questa lunghezza chiaramente Sennò si fa molto male Man mano che si fa il trattamento il pelo sarà più debole, crescerà meno e quindi si potrà chiaramente levare con più facilità, meno dolore Ok, facciamo l'ultima parte, tira bene bene Mentre Lisa, che tu lavori velocemente, Maria Grazia chiede su pelle con acne si può effettuare questo trattamento? Bisogna vedere dove è l'acne, se l'acne, cioè bisogna vedere dove sono i peli Se i peli sono in mezzo all'acne o proprio sull'acne sarebbe il caso di no Perché l'acne sappiamo che è un'infiammazione del follicolo, pilosebacio Quindi se andiamo a togliere anche i peli che ci sono sull'acne stimoliamo magari follicolite Quindi magari prima viene curata l'acne e poi può essere fatta l'epilazione Se siete estetiste fate dei trattamenti all'argilla magari, il tempo che si asciuga un pochino E poi ci lavorate sopra, mai lavorare sulle lesioni La tortura sta per finire Sto soffrendo più di lei Stiamo soffrendo con te Adesso è sofferenza proprio da un'ora Poverina, sembra di sergialissimo Il proprio dolore per lei Però guarda, sembra che gli fa, che passa tipo Perché quando passa vedono proprio le striature che se ne vanno Certo Adesso soffri? Per il rossore della pelle dopo si fa una bella maschera più pescante Adesso soffre Sto soffrendo per lei, lo confermo Ho una maschera decongestionante, lenitiva O un impacco col tonico Ok Ma quante ce ne dobbiamo esorbire? Ragazzi, con 1,50 euro di filo comunque avete un bel trattamento Ah, lì so Con un filo Cosa si può fare con un filo? Esatto E si chiama filo arabo, non perché il filo sia arabo Per chi non lo sapesse, ma perché il metodo è arabo Beh, perché gli arabi sono famosi anche per avere molta peluria Quindi sicuramente lo utilizzano tanto Ok Andiamo Se ho lasciato qualcosa dietro Come nuova? E' una persona allieva Nuova Ok Più o meno questa lunghezza Quindi piccolo piccolo Stavolta Ok Ok, perfetto Così Perché se vi dovete fare il baffetto Anche più corto Così Allora Il nodo Si fa tra un'estremità e l'altra Stai studiando così dove fai da sole? Non lo farò mai da sole Quindi faccio due nodi Che vi devo formare come un cerchio Grazie Ok Questi due fili che vi escono fuori li tagliate Se no ve li portate dietro E a questo punto lo giro Giro così Formate un infinito Formate l'infinito Infinito Giro 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 su se stesso Deve girare E mi ritrovo in questa situazione Ho sempre Indice medio Pollice all'interno Mi poggio sul viso Tiro la pelle E faccio da destra A sinistra Quindi tiro di qua Riallargo E vado a tirare di nuovo Perché se i peli sono In questo verso Io devo andare Contro pelo Ok Da un lato E dall'altro Questo per il fai da te Lo potete fare anche sulla cliente Così A me non viene bene Perché mi spezzo Mi spacco un po' Le dita Ok Ora facciamo Di un po' Quel tonico E vi abbiamo fatto Daniella Grazie La cliente si è ripresa La cliente è viva? Sì Sì Ora per la diretta Ricorda Mi dice Fammelo Subito Subito Per il trattamento Consigli L'esposizione al sole Da qualche giorno Certo Sottinteso Non l'ho detto Ma non esporsi al sole Se c'è il sole fuori Protezione 50 Proteggere la pelle Sempre Allora Sto facendo con le veline Un po' il metodo casalingo Più carine Le maschere In TNT Già pretagliate Cosa metti? Sto mettendo il tonico Il tonico Questo ho fatto Ti rinfrescando Ok Vi stiamo facendo vedere Anche il metodo casalingo Fai da te Sì Così Sto improvvisando Ok Stai rinfrescando Già Ok La fate stare Cinque minuti Dopodiché Togliete Mettete crema lenitiva E Avete finito Benissimo Ok Nel frattempo Che la ragazza Si rilassa Si riprende Si rinfresca Mi sembra che Non abbiate altre domande In merito Perché abbiamo Risposto a tutto Se avete qualche domanda Flash Fatela adesso Perché stiamo per chiude Il corso Una crema lenitiva Crema lenitiva Che può essere Aloe Gel lenitivo Calendola Camomilla Se il rossore non passa Che si fa Passa Il rossore passa Nel giro Se non passa subito Passa Entro un paio di ore Comunque Abbiamo tolto Dei pelli Non abbiamo fatto Niente di che La pelle si riprende Allora ragazze Io saluto La nostra Elisa Grazie come sempre Grazie a voi Per essere state con noi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi